E già sabato, il 4 di novembre, lo tommo il luogo Open Dach di IPA. Cominzando a capire da 10 ore di Mainta, persone non sono interessate a dare più informazioni, toccanti e differenti studi non sono offrisci per l'IPA. Di un'conferenza di prensa, io e la Frau Jennifer Warner elaborano più, arriva il dia di attività qui. Già sabato, il 4 di novembre, l'IPA è stato in Open Dach. E sa che lo tommo il 10 ore di Mainta, per 2 ore di Mainta, e lo tommo il luogo in IPA. Durante l'attività, noi lo dommo, tra le altre informazioni di studi per maestro di insegnanza primario, bachelor in Nederlandsche al Vreemde Taal, 21 plus tutti, e il corso di certificazione pedagogico-didattico conosci come PDG. Per la qualità tratta di studi, bachelor in Nederlandsche al Vreemde Taal, 21 plus tutti, e il corso di certificazione pedagogico-didattico, c'è anche da 2 tanti di informazioni. E per 1 tanti di turistica, il 10 ore di Mainta, e 2 tanti di turistica, il 4 di Mainta. E la forma che lo do, la informazione di un'esatena, è in forma di una presentazione. La banda di esaki è un foot-embex, che si è organizzata per gli studiatori del anno 3. E la metà di esaki è che è un'esplice per ricordare il fondo, per la passantienza internazional, internazionale che formano parte del currículo di IPA. Naturalmente, non abbiamo bisogno di arrivare a tutti. Abbiamo un po' di scuola specialmente per fare diverse attività per entretenere, se che adulti hanno presenso le differenze tante informazioni che abbiamo bisogno di offrire. Abbiamo chiesto di compagnie informazioni di OpenDoc e di IPA in generale. Abbiamo la nostra Facebook page, l'Instituto Pedagógico Urbano in Laikesaki, per cercare la altra di tutto l'ultimo desarrollo. Abbiamo la nostra Facebook page, www.ipa.aruba.com Abbiamo la nostra Facebook page, qui ci sono state informazioni che abbiamo bisogno di offrire. Abbiamo la nostra Facebook page 24, 25 e 25, 26.